Radio radicale, una scoperta radicale che dà dipendenza, una radio che dà dipendenza. Spesso parlo con le persone e tutti in un modo o in un altro sentono, seguono qualche rubrica di radio radicale. Peraltro non vi sintonizzate su questa frequenza perché questo è un manifesto storico, le frequenze sono cambiate. Eppure sembrava un grande scandalo quando iniziò dall'ufficio di Roberto Cicciomessere 1976 con un accrocco per dare in diretta i lavori dell'aula parlamentare e poi delle commissioni. Eppure la Costituzione dice che i lavori del Parlamento sono pubblici e non si può pretendere di pensare che sono pubblici solo per quelli che vanno fisicamente evidentemente in aula o gli stenografici mesi dopo. Però insomma non fu affatto scontato. Io ero giovane deputata, appena entrata in Parlamento presiedeva Presidente Ingrao. Ci furono riunioni dei capigruppo, dell'ufficio di presidenza, chi voleva cambiare il regolamento, chi non... E alla fine fu un tale bailamme che, insomma, Radio Radicale era iniziata ed è continuata. Ci dicevano tutti che no, una radio senza pubblicità, una radio istituzionale, una radio tutta politica, non sarebbe andata da nessuna parte. Invece, come Radicali, persistente, cocciuta, resistente, qui ancora sta. E in più voi lo date persino per scontata. Insomma, uno pensa che è così, uno accende ed è come se fosse una radio pubblica. No. È una radio privata portata avanti con fatica e con impegno da molti, che ha una convenzione, ci mancherebbe pure altro con la Camera dei Deputati per la trasmissione in diretta. Ma, insomma, e mi ha fatto emozione scoprire che questa idea di mettere le istituzioni a disposizione, diretta dei cittadini, è un'idea che è stata ripresa, certo con altre tecnologie, blog, internet, eccetera, da un gruppo di ragazzi tunisini che si sono inventati un NGO che si chiama la Butala, Bussola, che hanno dato in diretta, frequentando, minacciando di essere espulsi, insomma, tutta una vicenda abbastanza divertente, l'assemblea costituente della Tunisia. E dando in diretta i voti, in particolare, sull'introduzione della Sharia, Sharia sì, Sharia no, eccetera, eccetera. E sono diventati popolarissimi. Adesso nessuno osa più cacciarli e quindi la Bussola, la Bussala, continua a produrre. Quindi a distanza di qualche centinaia di chilometri alcune idee, poi i semi danno i frutti. Sicché è veramente una storia vostra Radio Radicale, è una storia che usate e che, insomma, se la sostenete, secondo me e sostenendo il Partito Radicale Trasnazionale e i radicali italiani, vi, vi fate un grande regalo. Oh, aggiudicato! Oh, ha, ha!